Numero 42, 42, ecco l'acqua, no, è qua, si è cambiato? Allora, mi avvisano che a mezzogiorno, visto che abbiamo il dorm, che a mezzogiorno alla cascina San Bernardo, alla chiesetta, c'è la messa, e accettano anche vestiti da sportivi, eh, non c'è problema, se volete andare a mezzogiorno c'è la messa, numero 42, cosa hai detto il 42? Allora, va, eh, signore, io quando vedo, eh, numero 78, 78, numero, mi hai dato una rugata, eh, non me l'ho mescolata forte lì, è il numero 52, è il numero 52, c'è, eccolo la che ha le mani, numero 32, numero 34, 3, 4, eccolo lì, 34, ma guarda che questo va messo così, non ho l'uno per gamba, eh, non metterne uno per gamba, numero 46, 46, guarda, ecco c'è, grande, numero, numero, si mangia, è il numero 35, ce l'ho io, no, è il 35, ok, ciao, ecco qua, si mangia, eh, con questo errore, com'è, allora lo tengo io perché se non ce ne è a posto, numero 54, 54, 54, 54, di, ascolta, vieni, vieni, no, vieni, maurizio, non ce la porti te, 54, vuoi, 11 caffè o dei mignon, i pasticini, ok, il posto delle 11 caffè, non lo so, ascolta, ascolta, il fatto è che c'è solo un trucco, lo caffè non ci abbiamo avuto meglio, va bene, arrivederci.